Il gruppo di ricerca ELICOM, Educazione Linguistica Inclusiva e Comunicazione, viene fondato nel 2019 presso il Laboratorio di Glotto Didattica dell'Università di Parma e grazie ad una partnership con il Centro Studi Ericsson. L'obiettivo del gruppo è quello di studiare le complesse dinamiche che possono favorire l'inclusività nell'educazione linguistica e nella comunicazione. Una particolare attenzione viene dedicata alle metodologie glottodidattiche per sostenere gli apprendenti con un bisogno linguistico specifico, come ad esempio un disturbo dell'apprendimento, un disturbo del linguaggio o della comunicazione. Dal punto di vista scientifico, il gruppo di ricerca ELICOM affonda le proprie radici nella tradizione di ricerca della linguistica educativa, che studia il rapporto tra il linguaggio e i processi educativi e coniuga questa tradizione di ricerca con alcuni paradigmi più moderni e innovativi, come ad esempio la linguistica cognitiva, la teacher cognition e ancora la evidence-based education, per citare alcuni esempi. Partendo da queste premesse teoriche, ELICOM intende contribuire alla diffusione di una cultura dell'inclusione attraverso diversi ambiti di intervento. Il primo e il più importante è quello della ricerca teorica e applicata, che viene sviluppata anche attraverso l'attivazione di borse di ricerca e di partnership con enti di ricerca e istituzioni educative. I disegni di ricerca adottati dal gruppo coniugano strumenti diversi, ad esempio strumenti della tradizione nomotetica come questionari da somministrare su larga scala e strumenti invece più introspettivi che vengono tratti dalla ricerca di tipo ideografico, come ad esempio un diari, biografie linguistiche, interviste ed altri strumenti appunto di natura più riflessiva. Inoltre ELICOM dedica un'attenzione particolare anche alla sperimentazione controllata di strategie e metodologie innovative, in particolare all'interno dei progetti di formazione e di potenziamento linguistico che organizziamo presso l'Università di Parma. Dalla ricerca teorica applicata poi discendono altri tre ambiti di intervento, come la divulgazione scientifica, la consulenza e la formazione professionale. Per quanto riguarda la divulgazione scientifica, questa avviene attraverso l'organizzazione, la partecipazione a convegni e giornate di studio, ma anche e soprattutto attraverso un uso accorto dei canali social Facebook, Instagram e LinkedIn, che vengono utilizzati come strumenti per la diffusione di informazioni affidabili sull'educazione linguistica inclusiva. E particolarmente rilevante è anche l'area riservata del nostro sito, nella quale si trova una bibliografia aggiornata, si trovano risorse audio, risorse video, materiali didattici e altri strumenti che sono a disposizione di tutti gli utenti. L'azione di consulenza scientifica invece riguarda principalmente la collaborazione con editori, come ad esempio Ericsson, Oxford University Press e Rizzoli, e l'obiettivo di queste partnership è quello di elaborare progetti editoriali e strumenti didattici capaci di coniugare innovazione e inclusione nell'ambito sempre dell'educazione linguistica. Infine Helicom è fortemente impegnato nella formazione professionale degli educatori linguistici, ad esempio insegnanti, tutor e educatori professionali, e oltre ai percorsi che tradizionalmente realizziamo in collaborazione con i nostri partner, abbiamo elaborato e validato la certificazione di esperto dell'apprendimento linguistico, che è la prima certificazione glottodidattica sulla tematica dell'educazione linguistica inclusiva, che si può conseguire attraverso specifici percorsi formativi che eroghiamo presso il nostro Ateneo. Un ultimo aspetto, che è molto importante per Helicom, riguarda il nostro crescente impegno nella costruzione di partenariati con enti e istituzioni internazionali. Cito ad esempio la nostra collaborazione al progetto Erasmus+, Digital Tools for Inclusive Foreign Language Education, e la nostra partecipazione al Research Network sulla stessa tematica, Inclusive Foreign Language Education, che nasce all'interno dell'Associazione Internazionale di Linguistica Applicata. Si tratta di strumenti preziosi che ci aiutano a sviluppare le nostre linee di ricerca in una prospettiva sempre più internazionale.